Gli imbrogli e gli eroismi In televisione indago sulle imprese pubbliche e private. Il mio lavoro non è tacito, però è sereno e luccica in mezzo alla bassa evoluzione. Valico le scuse e le menzogne, gli imbrogli e gli eroismi degli intervistati e giungo al canto onesto della mia professione. A chi mi segue dico, venite belli, intrecciate i vostri interessi con i miei, che adesso sono sogni, ma saranno mattoni quando l'Italia avrà compreso. Lo sento, le mie parole salgono verso la gente e io veglio sullo schermo, inseguito dalle offerte di denaro di chi mi vuole comprare perché taccia. Ma io rimango nel mio stipendio, è vero, avvolto nell'audience vittoriosa.